benvenuti a una nuova puntata di dr penis location diversa dal solito siamo ad amsterdam congresso europeo di urologia abbiamo incontrato un nostro paziente quattro mesi fa luigi ha effettuato un impianto di protesi peniena idraulica tricomponente oggi è qui perché lui vive ad amsterdam ci racconta brevemente qual è stato il motivo che l'ha spinto a fare l'impianto della protesi e come si trova oggi con il device allora buon pomeriggio ovviamente allora la soluzione il motivo che mi ha spinto a prendere questa scelta ovviamente con anche il pensiero del professore antonini ovvero quello di impiantare una protesi è stato che praticamente più di un annetto fa mi è capitato un problema al pene il quale mi ha portato una fibrosi ai corpi cavernosi e da lì ho iniziato tutto un diciamo se così si può dire un combattere con questa cosa e con tanti vari diciamo all'inizio combattuto questa cosa da solo e col lato psicologico ovviamente che diciamo colpisce molto anche il lato psicologico ovviamente come qualunque uomo potrebbe capire e dopo di che ha iniziato a documentarmi praticamente andare su internet trovare un una spiegazione perché poi ero totalmente ignorante in materia nella in quello che mi sta succedendo e quindi una delle ho preso questa scelta perché volevo far finire diciamo questo questo come dire questo combattere con questo problema che mi è capitato e dopodiché mi sono incominciato a informare online a documentarmi sui vari modi che ci potevano essere che mi aiutassero a combattere questa questa se così si può dire malattia o patologia come la vogliamo chiamare che influisce sia psicologicamente sia emozionalmente in tutti i cambi della della persona dopodiché e niente non sono arrivato che guardando video dopo video ho trovato il professore antonini che è servita tutta questa comunicazione online perché molte volte ci sono tante persone che mi dicono che esagero però io credo che sia fondamentale comunicare credo che sia molto molto importante far vedere perché un ragazzo giovane come te quanti anni hai ricordato 28 28 anni con un problema importante che lo sta condizionando da un punto di vista emotivo sociale anche nei rapporti interpersonali con gli amici con la moglie in famiglia abbia bisogno di capire per fare un passo così importante quindi dimostrare che sappiamo fare sappiamo risolvere questo problema credo che sia molto importante è servita questa cosa e dici oggi come stai fisicamente con la protesi e se si vede questa protesi soprattutto non si vede non si sente allora partiamo dal fatto che sto benissimo al cento per cento meglio di come stavo prima che effettuavo l'intervento prima che facessi l'intervento col professore e ritornando a prima ho preso questa scelta per mettere fine una volta e per tutto a questo problema e ritorniamo di nuovo al al dicevamo aspito dimenticato al discorso dello stress al motivo della paura e della fibrosi che avevi esatto esatto questo ha portato come diceva professore tanti problemi se emozionali di tutta la persona dice come stai dice come stai allora io sto bene sto benissimo dopo l'intervento ho recuperato molto velocemente diciamo fisicamente sono sempre stato bene fin dal primo giorno dopo all'intervento solo qualche dolore dovuto ovviamente all'intervento ma pur sempre normale ma che è possibile comunque tenere a bata con i antidolorifici o comunque farmaci e poi recupero è stato molto come dire settimana giorno dopo giorno non settimana dopo settimana giorno dopo giorno vedevo un recuperare di diciamo del parlando del dolore comunque di questi dolori che avvertivo un dolore nel generale la qualità dei rapporti com'è la qualità dei rapporti sessuali la migliore che abbia mai potuto avere fino ad oggi quindi seppur naturalmente lo devo dire anche naturalmente che non ho mai anche sin quando non avevo questo problema diciamo ad oggi credo che sia meglio ora che prima nonostante non avesse avuto un problema quindi diciamo che con la protesi si ha un rapporto migliore senza pensieri specialmente per chi ne ha perché ha sofferto di disfunzione o comunque ha avuto a che fare con la disfunzione erettile e niente il rapporto è tutto è differente è molto senza pensieri ripeto senza problemi perché basta attivare il dispositivo quando si vuole si vede tempo che si vuole e si vede assolutamente no non si vede nulla hai detto una cosa hai detto una cosa importante quella che poi il nostro addetto alle relazioni con i pazienti Enrico Gravina dice sempre la disfunzione erettile non è un problema ma è un'opportunità diventa un'opportunità per avere una nuova e brillante vita sessuale e Luigi è qui a testimoniare questa cosa e lo posso confermare io ringrazio Luigi invito tutti quanti a mandare le vostre domande all'indirizzo email in sovraimpressione un grande e forte abbraccio a Luigi buona vita un saluto da Amsterdam e ci vediamo alla prossima puntata di Doctor Penis